I carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli presso le strutture preposte ad offrire servizi e trattamenti destinati al benessere psicofisico come stabilimenti termali, centri benessere e spa. Le attività di controllo hanno interessato complessivamente 628 strutture e attività accertando irregolarità in 95 di esse, delle quali 11 oggetto di provvedimenti di sospensione a causa di gravi carenze. Le verifiche hanno consentito di accertare 38 violazioni sulla corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19. Tra queste, 11 sanzioni specifiche hanno riguardato l'assenza di verifiche del gestore sul possesso delle green pass e sulla mancata inibizione all'accesso a servizi non attualmente erogabili, come gli ambienti altamente caldo-umidi. Ulteriori 104 violazioni hanno riguardato situazioni di irregolarità per motivi di pulizia e di igiene degli ambienti utilizzati. Complessivamente sono state segnalate 98 persone all'autorità giudiziaria e amministrativa. Tra le operazioni più rilevanti è anche quella effettuata da Enasse di Pescara, che nel corso di ispezioni presso tre hotel con annessi centri benessere ubicati nei comuni di Rocca San Giovanni, Vasto e Teramo, hanno sanzionato i titolari per aver mantenuto cucine e relativi depositi alimenti in carenze igienico-strutturali ed organizzative, omesso di attuare le procedure connesse alla rintracciabilità degli alimenti e dal contenimento del Covid-19. Nelle due attività annesse di ristorazione è stata altresì accertata l'omessa indicazione nella lista delle vivande della presenza di allergeni nelle pietanze somministrate. L'autorità sanitaria ha disposto per due attività ricettive la chiusura dei locali destinati alla preparazione e somministrazione degli alimenti sino al ripristino delle condizioni minime di igiene nonché la distruzione di 90 kg di prodotto alimentari privi di tracciabilità. Presso un'altra struttura ricettiva alberghiera SPA in Pietra Camela, il NAS ha sanzionato il gestore per aver consentito l'accesso alla piscina ad un avventore sprovvisto di Green Pass, aver mantenuto i locali cucina e deposito in carenti condizioni igieniche e non aver attuato le procedure di autocontrollo alimentare ed indicazioni nella presenza di allergeni nelle pietanze.